Questo è il mese al preziosissimo sangue di Gesù, 28 luglio, i persecutori del sangue. Purtroppo la passione non ebbe termine sul Golgotha e non ha avuto mai termine. Ancora Gesù continua ad essere crocifisso e a versare sangue. La lotta che si fa alla Chiesa e ai cristiani si fa a Cristo, perché i perseguitati sono membra del corpo di Cristo. Così Cristo continua a sanguinare, non solo per il sangue dei martiri, ma per tutti gli strazi inferti ai Suoi fedeli, per le umiliazioni dei Suoi ministri, per i vilipendi del Suo vicario, per le chiese arse e profanate, per le opere distrutte, per la carità infranta, per l'usura quotidiana della callunnia. Governi, scrittori, oratori, filosofi, tutta una varia coalizione di persecutori che uccide o incepa l'opera d'amore, la dottrina e l'espansione della Chiesa, prolungano la passione di Cristo, facendo piovere ancora sangue dalle sue piaghe. Quante volte, anche ai nostri giorni, il santo sacrificio deve essere celebrato nascostamente perché i sacerdoti o sono in carcere o ricercati a morte. E' vero che va in voga un certo ritornello. Cristo sì, preti no. Ma in realtà, la persecuzione è contro il primo sacerdote, Cristo. Se tu sei contro la Chiesa, dice Santa Caterina, come potrai partecipare al sangue del Figlio di Dio? Chi spregia questo dolce vicario di Cristo, spregia il sangue. Forse in questo momento tu pensi Io non sono un persecutore del sangue di Cristo. Bada che non solo chi imprigiona o d'uccide, perseguita. Si perseguita anche con la calunnia, l'odio, lo scandalo. Si perseguita anche con l'indifferenza. Vi sono i parasiti del sangue, cioè coloro che usufruiscono dei frutti della redenzione, ma nulla fanno per Cristo. Quanti ritengono di fare una larga concessione al prete, andando in chiesa la domenica? E perciò vogliono essere riveriti, lodati, aiutati. No. Dobbiamo essere cristiani generosi. Dobbiamo professare la fede per la fede e non per secondi fini. Dobbiamo mettere in opere tutte le nostre energie. Per cooperare alla saldezza della Chiesa. Nostra Madre. Esempio. Il padre rei, nel suo mese del preziosissimo sangue, riporta un episodio della persecuzione bolscevica, accaduta nella città di Pietroburgo. I rivoluzionari avevano deciso di servirsi, come luogo di ritrovo di una chiesa. Alcuni fanciulli lo vennero a sapere, e di note vi si introdussero. Sicché quando i militi all'alba, sfasciando le porte, vi penetrarono, li trovarono tutti inginocchiati presso l'altare. Invitati ad uscire, i fanciulli si opposero decisamente. I rivoluzionari puntarono i fucili contro di loro, ma i piccoli non si mossero. Irritati da tanta fermezza, fecero fuoco, uccidendone due, e ferendoli altri. Un piccolo ferito, portato a casa, moribondo, disse alla mamma, Abbiamo difeso Gesù, e i rivoluzionari non hanno osato mettere le mani sul tabernacolo. Non temiamo le persecuzioni. Vane sono le speranze dei carnefici. La chiesa non crollerà giamai, e il sangue dei martiri sarà seme fecondo di nuovi cristiani. Proposito Professiamo apertamente la nostra fede, e se non ci è dato il privilegio di spargere il sangue per Cristo, offriamoli il martirio del nostro desiderio. Giaculatoria Gesù, corona dei martiri, per i meriti del tuo preziosissimo sangue, dona forza ai campioni della fede. Grazie a tutti.